Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning come potete vedere ho un altro pacco made linea originale.it oramai li conoscete bene, vi lascio tutti i link in descrizione di linea originale e in quanto sentendoli ho voluto cambiare una parte della mia macchina una parte che interessa il vano motore la mia macchina è vecchia quindi i tamponi che fermano l'acqua sui passaruota, i parafanghi sono praticamente distrutti, tra poco vi faccio vedere le loro condizioni quindi ho provveduto a chiedere a linea originale.it se mi trovassero il ricambio originale quindi tra poco apriremo il pacco e inoltre dentro ci sarà anche un'altra cosa che però non vedremo in questo video e andiamo in macchina e andiamo in macchina allora potete vedere qui il tampone eccolo qui questo è nuovo qui è bucato, il mio è rotto, tra poco lo vedremo e lo andremo a montare uno e due perfetto perfetto inoltre qua sotto ci sta un'altra cosa ve la faccio solo vedere però vediamo vediamo eh non ve la faccio vedere tutta ragazzi però potete immaginare cos'è la vedremo in un prossimo video quindi andiamo subito in macchina ok ragazzi ok ragazzi come potete vedere sto all'interno del vano motore questo è il quello rotto come potete vedere questo si è praticamente cotto vi faccio vedere quello di là quello di là era praticamente distrutto e veramente stavano in condizioni pietose quindi entrava anche l'acqua perché non tenevano più bene guardate qui e quindi niente ho deciso di cambiarli per i bottoncini non dovreste avere problemi perché già ce li avete qui quindi in ogni caso sono questi qui in ogni caso se non li avete vi legate da un qualsiasi carrozziere due bottoncini di questi ve li da anche a gratis sono niente quindi questo lo togliamo probabilmente devo farmi qualche passaggio per il cavo no non devo farmi niente ok allora vediamo un po' adesso lo metto qua perfetto tutta un'altra storia rispetto a prima ragazzi prima era completamente mangiato e niente quindi questo è un video abbastanza banale su come sostituire i tamponi qualora volesse avere un vano motore più più bello solo per questo e quindi niente vi lascio in descrizione lo sconto ovviamente del 5% su linea originale utilizzando il codice Mitch Tuning inoltre vi ricordo di seguirmi su Instagram di seguire anche linea originale di iscrivervi al canale e di mettere un like se il video vi è piaciuto per questo video è tutto ciao a tutti ragazzi iscriviti al canale ciao a tutti